Tutto pronto a Palazzo di Città, non c'era inferiore in vista della prossima tornata elettorale. La macchina organizzativa è ben rodata e il commissario prefettizio Giuseppina Di Rosa sta chiedendo il massimo agli impiegati affinché tutto vada bene. Si cerca di evitare qualsiasi intoppodi. In questi giorni è programmato un tour di verifica tra gli uffici. Queste elezioni sono molto sentite e davvero si vuole che tutto vada per il verso giusto. Il comune ormai su questo è rodato da tantissimo e i dipendenti comunali sono veramente molto validi e si impegnano tantissimo con grande zelo davvero. Io sono andata a visitare tutta la parte che riguarda l'anagrafe, tutto quello che è necessario anche per le elezioni e siamo pronti sperando che tutto vada per il meglio e che non ci siano intoppi. Grazie. 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 Grazie.